Il Movimento 5 Stelle di Carrara ha presentato un ricorso alla Corte dei Conti per le presunte mancate entrate dal marmo negli anni precedenti, sotto accusa agli accordi del 2012 del Comune di Carrara. Sentiamo il servizio. Dopo l'interpellanza parlamentare affidata alle due segnalatrici del Movimento 5 Stelle, Laura Bottici e Sara Paglini, e la preparazione del disegno di legge, i pentastellati sui beni stimati decidono di ricorrere anche alla Corte dei Conti per chiedere una verifica sul presunto mancato gettito che sarebbe, secondo i 5 Stelle, di 3,2 milioni di euro nel 2014 e 2,6 milioni nel 2015. Sì, partiamo dalla tassa marmi in cui non c'era nessuna distinzione tra beni stimati e cave sicuramente comunali. Si arriva al 2003-2004 con gli accordi con il mondo del marmo per cui i beni stimati ottengono uno sconto simbolico rispetto agli oneri delle altre cave. Arriviamo invece al 2011-2012 in cui l'amministrazione fa degli sconti sostanziosi per i beni stimati. Consideriamo che le cave totalmente benestimate pagano come canone concessorio a zero, le cave che hanno il 50% di benestimato pagano il 50% e meno e così via. Quindi gli sconti diventano reali. Il ricorso contiene 29 punti e 15 allegati, ma il Movimento 5 Stelle mira coinvolgere anche il Consiglio di Stato a cui è stato inviato un atto di sindacato ispettivo per avere un parere sui beni stimati che possa essere la base per future azioni legislative locali e nazionali. Grazie a tutti.